Ciao e benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino Allora oggi ho deciso di fare una recensione su questo token RLY del progetto Rally Vediamo un attimino che cos'è e come funziona, me l'avete chiesto in tanti e vediamo un attimino di capirci qualche cosa Naturalmente tutto quello che vedrai all'interno di questo video non sono consigli finanziari ma è solo da considerarsi al solo scopo informativo ed educativo E non è una frase tanto per dire Altra cosa, qualsiasi cosa deciderai di fare è solo e esclusivamente una tua scelta Quindi informati bene prima di effettuare qualsiasi tipologia di investimento o operazione all'interno di questo mondo Molto probabilmente molti di voi me lo hanno chiesto perché hanno deciso di partecipare al progetto Casper E magari si sono registrati su CoinList e qui vi è arrivata questa email che vi informava di quest'altra possibilità Allora iniziamo intanto a fare delle distinzioni Casper è ad esempio un progetto, è una ICO, quindi un progetto in fase di lancio iniziale ICO sta per Initial Coin Offering, quindi viene proprio lanciato su CoinList Mentre invece Rally non è un lancio ma è semplicemente una vendita a sconto, chiamiamola così Ora innanzitutto andiamo ad analizzare il progetto Rally, come funziona e vediamo un attimino di capirci qualche cosa Allora iniziamo prima di fare la recensione vedendo appunto il sito di CoinList Dove praticamente qua ci dice insomma di questa possibilità e praticamente ci dà i dettagli della vendita Quindi spero che tu abbia capito innanzitutto che non è una ICO, quindi non è un'offerta iniziale Ma il token è già liberamente circolante Qui ti offrono la possibilità di prenderlo innanzitutto ad un prezzo scontato In cambio di questo prezzo scontato si dovrà tenere vincolato questo token per un certo periodo di tempo Allora come funziona? Ci sarà un ribasso pari al 10, fra il 10 e il 30% rispetto alla media dei 15 fino a 45 giorni precedenti Prima del lancio di questa vendita, quindi prima del 1 aprile 2021 Nello specifico il prezzo sarà ufficializzato 24 ore prima del lancio, quindi il 31 marzo Il token sarà possibile acquistarlo con Bitcoin, Ethereum oppure USDC C'è un minimo di 100 dollari e un massimo di 1000 Cosa succede? Una volta che si acquista questo token Praticamente si avrà un blocco di 6 mesi Quindi questo blocco funziona in questo modo Praticamente per una volta acquistati questi token Per i primi 6 mesi non si potrà fare assolutamente nulla Dopodiché ci sarà un rilascio graduale O meglio, il 4 di ottobre 2021 Verranno rilasciati il 50% di token acquistati in questa fase Dopodiché verranno rilasciati mensilmente nei successivi 12 mesi Ok? Quindi ti dividono l'importo rimasto per 12 dei token E ogni mese ti vengono rilasciati C'è un massimo di 40 milioni riservati a questa vendita E l'offerta è primo arrivato, primo servito E il prezzo è fisso Allora quindi come primo passaggio vediamo che cos'è Rally Quindi come ci dice Rally è appunto una piattaforma costruita su Ethereum Quindi diciamo una side chain Una side costruita su Ethereum Nel quale praticamente alcuni creatori Alcuni personaggi famosi Youtuber Ma anche persone insomma normali Cioè qualsiasi Possono realizzare il loro fan token In modo semplice c'è anche un sito insomma Che ti permette di effettuare questo Che cosa si può fare con questi fan token? Con questi fan token è possibile quindi Come dice qua aumentare il loro pubblico Per premiare i fan e guadagnare di più E' possibile inoltre ad esempio Fare delle votazioni quindi con questi token Quindi ad esempio non so Una star potrebbe dire domani Che maglione mi metto? Giallo oppure verde? E praticamente le persone possessori di questo token Possono votare direttamente Che tipo di maglione si deve mettere la star Piuttosto che se deve uscire nudo per casa Piuttosto che che gioco vuole fare Ossia ti consente di decidere la vita della persona in questione Quindi è un po' come tokenizzare la propria vita E metterla appunto a disposizione dei possessori del token A me ti devo dire che questa cosa fa leggermente paura Ma poi dopo ti dirò un po' più avanti Perché fa paura Un altro aspetto importante naturalmente Che ci dice che è possibile creare questi token Senza necessità alcuna di conoscere programmi di sviluppo Ma in modo molto semplice Quindi qualsiasi persona Piuttosto che qualsiasi artista Piuttosto che qualsiasi star Può creare il suo fan token Allora questi sono alcuni esempi di creator coin Ossia queste monete realizzate da qualche artista Che praticamente è possibile quindi acquistare Già ce ne sono diverse E praticamente quindi li puoi diciamo acquistare E fare alcune cose che l'artista ti permette di fare Come appunto come detto Fare queste votazioni Avere non so ad esempio degli accessi a dei posti privati Oppure ancora dei contenuti riservati Oppure non so magari l'accesso al backstage E via discorrendo Questo in base a quello che decide l'artista Di farti fare con il suo fan token Questo qui è il sito principale Allora per quanto riguarda quindi i creatori Permette di monetizzare Quindi molto di più insomma dai loro social Anche perché questi token è possibile Diciamo anche sponsorizzarli sui vari social Quindi si ha diciamo un ottimo profitto Per i possessori Quindi per i creatori del proprio fan token E per i fan appunto Da degli accessi esclusivi Ecco qua ci fa l'esempio come Accesso prioritario ai biglietti per esempio E via discorrendo Qui sulla parte bassa del sito C'è tutto insomma Quindi la possibilità di seguirli tramite twitter Tramite discord Telegram Non l'ho trovato Qui c'è anche medium Insomma che ti dà aggiornamenti Questa poi invece è la token economics Te la lascio anche in descrizione O meglio diciamo questo qui è il white paper Fra cui c'è anche la token economics Quindi qui ci dice che tramite questo progetto Tramite questo rally.io È possibile creare dei contenuti In modo diciamo molto semplice Appunto per i creatori Per questi artisti Per farti capire la blockchain Come funziona La blockchain in realtà non è una blockchain Ma è una sidechain Praticamente si appoggia Come se fosse diciamo un layer 2 Su blockchain di ethereum Quindi praticamente Vengono peggati i tuoi ethereum Tramite un bridge Ossia quindi puoi Ad esempio Convertire i tuoi ethereum Piuttosto che altre valute Erk20 Peggarle direttamente Bloccarle Sulla blockchain di ethereum E in cambio accederai a questa Sidechain di rally Nel quale è possibile effettuare appunto Le operazioni Sicuramente quindi a un costo Naturalmente più basso di fee C'è proprio questo programmino Sia questo sito Questo bridge Nel quale è possibile Direttamente quindi Switchare Dalla blockchain mainnet di ethereum A questa sidechain di rally Per quanto riguarda La token economics Ossia proprio il token Vediamo che È praticamente suddiviso Quindi Suddiviso fra Diciamo inizialmente Fra un 15% investitori 14% team Advice al 0.17 E via dicendo C'è una supply massima Di 15 miliardi di RLY Questi Questa supply massima Quindi non è aumentabile È fissa Non c'è un incremento Perlomeno Momentanamente Non è previsto Una inflazione Con il token È possibile Quindi effettuare Delle votazioni Piuttosto che Effettuare Dello staking Piuttosto che Effettuare Del farming Sì perché C'è anche La possibilità Di fare farming Adesso ti faccio vedere tutto Inoltre Su questa piattaforma Quindi È possibile anche Utilizzare Gli NFT Creare Gli NFT Quindi ci sono Tantissime cose Da poter fare Davvero Davvero Tante Questa è Il Appunto Lo yield farming Di RALLY Qui naturalmente È possibile Fare del farming Quindi Mettere Una coppia Piuttosto che Un singolo token E generare token RLY Ok Altra cosa Qui ci sono Le liquidi di pool Dove è possibile Aggiungere Appunto Liquidità Direttamente Alle pool Che uno ritiene Opportune E invece Qua sotto Su bridge Questo qua È proprio Il bridge Quello che ti dicevo Quindi quello Che ti permette Di trasferire Monete Insomma Da Ethereum Su questa Sidechain Qui insomma Compilerai tutto Sbloccando Il Il tuo wallet Pagando le transazioni In Ethereum Naturalmente Perché all'inizio Sono Ethereum Verrà insomma Abilitato per effettuare Diciamo Le operazioni All'interno di questa Sidechain Questo è un articolo Del New York Times Legato proprio A questo A questo Progetto Ci fa proprio Insomma Quindi L'esempio Che Che ci sono Insomma Quindi molti Artisti Che si stanno Avvicinando A questo A questo Settore Inoltre ci dice Che è possibile Costruire Degli NFT Direttamente Anche in questa Sidechain Sappiamo Insomma Gli NFT Che hanno Diciamo Un seguito Incredibile E ci fa proprio L'esempio Qui Amelisi Ha dato controllare La mia vita Lo ha chiesto Questo Lave Camero Camero Questo 15n Tiktoker Che non conosco C'ha 3 milioni 3d follower E praticamente Quindi ecco Qui ha fatto L'esempio Quindi chiedendo I suoi fan A quale gioco Avrebbe dovuto Giocare Con gli amici Hanno votato E praticamente Lui voleva giocare A catch E invece ha dovuto Giocare a dodgeball Perché i suoi amici E o meglio i suoi follower Hanno deciso di Farlo giocare A dodgeball Poi in più Poi in più Praticamente Ci dice Che è una cosa Disponibile Per tutti Quindi non è necessario Solo essere una star Ma può essere Tranquillamente Qualsiasi Persona Per effettuare Questa cosa Poi qui infatti Possiamo vedere Come detto C'è questa possibilità Di token Non fungibili Quindi questi NFT Sono diventati Un mercato Della vita Crescita E via dicendo Bla 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 Insomma tutte cose Queste qua Che orientativamente Sappiamo Poi qua ci dice Nel senso che ora Non lo ritrovo Vabbè insomma Che hanno fatto La foto Dei piedi Di un artista Insomma So chi L'hanno venduta Vabbè Comunque ecco Queste sono tutte cose Diciamo un pochettino Particolari Ma sono tutte cose Che è possibile Effettuare Su questa blockchain O meglio Su questa sidechain Non so Secondo te Ti può ricordare Un pochino Cilliz Che dici Mentre diciamo Lì è più Incentrata Sui Fan token Relativi Ad esempio Allo sport Come i fan token Del mondo Del calcio Piuttosto che Espansioni varie Insomma Che stanno Avendo Qui invece È più incentrata Sul discorso Ad esempio Artista Che può essere Musicale Che può essere Artista Di strada Che può essere Attore Insomma Qualsiasi tipologia Di artista Star Ma anche di persona Diciamo Qualsiasi Che vuole Farsi un suo token E qui Appunto Subentano Le mie Perplessità Ma soprattutto Per un discorso In quanto Genitore Questa cosa Un pochettino Mi spaventa Perché Sono stati Tanti Noi scandali Tipo il blue whale Cose varie E via discorrendo Mettere La propria vita Tra virgolette In mano Di persone Che Naturalmente La maggior parte Saranno magari Giovani Quindi Che ancora Non sanno bene Quello che Realmente Stanno facendo E delle votazioni Scegliere Alcune azioni Che vengono Effettuate A me Questa cosa Sinceramente Spaventa Ora Il CEO Dichiara Che saranno Molto attenti Ma se Succedono Scandali Di Episodi Episodi Che Dove le persone Muoiono Per dei giochi Stupidi Soprattutto Giovani Ecco A me Questa cosa Sinceramente Spaventa Non ci sono riusciti Colossi come Facebook E TikTok A Stoppare Questo fenomeno E qui A quanto pare Secondo loro Ci dovrebbero riuscire Questi ragazzi Del team Rally Ora Adesso Quindi ragazzi Qui è inutile Che stiamo A parlare Di questo Ma questa È una mia Preoccupazione Da genitore Che va bene Allora Questo invece È il Punto Il token Rally Che come detto Quindi è già Chiaramente Acquistabile Attualmente Nel momento Del video Si trova A 298 Posto Su Market Cap Quindi per Capitalizzazione Il suo valore È di 1.10 La supply Circolante Al momento È di 123 Milioni Questi 15 Miliardi Verranno Raggiunti In 8 Anni Perché Questi Token Verranno Rilasciati Un po' Per Volta Quindi Ogni Anno Fino A completare Questi 15 In 8 Anni Se volessi Acquistare Il token Adesso È possibile Farlo Direttamente Su Uniswap Piuttosto Che su Balancer Quindi Queste sono Le coppie Per Per il quale È possibile Effettuare L'acquisto Naturalmente Ci sono Le fee Di Ethereum Che sono Da Pagare Però In ogni Caso È possibile Insomma Acquistarlo Già Adesso Il token Quindi Serve Per la Governance Puoi fare Le votazioni Quindi Sui Eventuali Sviluppi Insomma Di Questo Token Per lo Staking Come Diciamo Validazione Delle Transazioni Insomma Le solite Cose Ed In più Naturalmente Per La creazione Di questi Fun Token Verranno Utilizzati Dei token Rally Per generare Questi altri Token Bene Eccoci Rientrati Allora Ti ho fatto Vedere Questo Progetto C'ho Anche Le perplessità Appunto Come detto Ma Lato Genitoriale Che sono Ben Diverse Insomma Dal lato Poi Di Investitore Allora Come Analisi Ti posso Dire Una Cosa Il Progetto C'è Molto Simile Diciamo Ecco Diciamo A queste Analogie Con Cilliz È Un Progetto Che Secondo Me Andrà Molto Andrà Molto Molto Bene La Vendita Diciamo È Una È Da Valutare Perché Sì Ci sarà Insomma Lo Sconto Ma C'è Questo Blocco Di Questi Token Per Un Per Per Tempo Diciamo Elevato Fondamentalmente Se uno Pensa Di Fare Del Lo Holding Su Questi Token Naturalmente Insomma In quel Caso Il Problema Non Si Pone Per Una Azione Un Po Più Veloce In quel Caso Lì Naturalmente Non È Consigliabile Quindi Detto Questo Spero Di Averti Fatto Una Paronamica Generale Insomma Riguardo A Questo Token Mi serve Un bel Pollicione All'insù Qua Sotto Che In modo Tale Che L'algoritmo Di Youtube Mi Possa Aiutare E Quindi Contribuire Grazie A Questo A Questo Gesto E Noi Ci Vediamo Al Prossimo Video Del Marchese Del Cripto E Ciao A Presto